13 persone sono state trovate morte e una ferita nel bilancio di un'esplosione verificata se in una miniere illegale di carbonio a Cucunuba nel centro della Colombia, 90 km da Bogotà. Lo ha riferito l'Agenzia Nazionale delle Miniere. Il presidente colombiano Juan Manuel Santos ha espresso le condoglianze alle famiglie che hanno perso dei membri nella tragedia. La polizia mi ha comunicato che nell'esplosione sono morte 13 persone. Voglio prima di tutto esprimere le mie condoglianze alle famiglie di tutte le vittime, ha detto Santos.